La buona notizia per i residenti di Limena arriva nel primo pomeriggio. Gli esiti dei tamponi fatti ai bimbi che erano al centro estivo in Arcella sono negativi. Il comune della cintura padovana, uno dei primi a finire nella tormenta sanitaria, resta libero dal Covid. Tecnicamente siamo ancora Covid free. I 18 cittadini, appunto, come diceva lei, non sono limenesi, lavorano a Limena. Ci auguriamo una pronta guarigione e ora SDA è chiusa, è chiusa su decisione della società. La ringrazio perché ovviamente avevo pronta l'ordinanza, però la sensibilità della società SDA è stata tale che attualmente ci sono circa 51 dipendenti in isolamento fiduciario. La priorità ora è riportare bambini e ragazzi a scuola a settembre. Stiamo facendo i salti mortali per assicurare l'inizio della scuola. Posso anticipare che a Limena non ci sono problemi di spazi, faremo dei lavori che ci costeranno comunque 50-60 mila euro per adeguare gli spazi nelle nostre plessi scolastici e la ripartenza scolastica sarà in sicurezza e dentro gli edifici scolastici. Se a Villa Franca sono state sospese sagre manifestazioni all'aperto, lo stesso non succederà a Limena. Stiamo cercando di essere positivi e di far sì che vengano rispettate le regole e dopo sarò il primo perché io sono oltre che sindaco anche papà, quindi voglio bene i miei cittadini, voglio bene a tutti. Se ci saranno dei problemi, se vedremo che la situazione diventa insostenibile, blocchiamo tutto, ma non ci sono in questo momento qui i presupposti per bloccare nulla.